Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. Su Netflix è disponibile Army of the Dead, la nuova opera cinematografica del mio amatissimo e super cuoricioso Zack Snyder che racconta le gesta di un improbabile gruppo di eroi o comunque di tizi super what-up versus gli zombie. Ma zombie intelligenti stavolta, quasi laureati ma non all'università della vita, essendo zombie, al massimo della morte ecco, battuta brutta inizia bene questa recensione che sarà una recensione rigorosamente con spoiler, sì perché c'è da dire di questo film e c'è da dirne con spoiler perché questo film mi è piaciuto ma è difficile che non mi piaccia un film di Zack Snyder, devo essere sincera con voi anche se c'è qualcosa che almeno secondo me non funziona perfettamente ma prima di partire a bomba c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando su tassino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche sul cellulare che è sempre una cosa importantissima. E indosso una bellissima maglietta firmata Pampling, non la vedete perciò fidatevi, Pampling, sito di maglietta e articoli nerd, trovate il link al sito in descrizione a questo video se volete il 20% di sconto su ogni articolo presente sul sito e per ogni vostro acquisto da quella eternità usate il mio codice personale vero COSMO e non ve ne pentirete. Bene, cioncio alle bande! Zombie, 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 eh, eh, eh A proposito, ve lo dico prima di iniziare il primo paragrafo di questa recensione, la musica. Ho adorato la scelta musicale all'interno di questo film da Viva Las Vegas a zombie alla fine, dei cranberries, insomma, veramente una scelta molto molto oculata, molto ben fatta e in certi momenti anche piuttosto zarra. Sì, e sapete che io amo tutto ciò che è zarro, ovvero tamarro, e l'impronta di Zack Snyder è quello zarro chic che stra-adoro e quindi, come avrete capito, Army of the Dead è un film che mi è indubbiamente piaciuto. Non credo di poter dire che sia il mio film preferito di Zack Snyder, tuttavia una cosa voleva fare Army of the Dead intrattenere, e c'è riuscito, sì, perché Army of the Dead indubbiamente intrattiene. Il mio coricciosissimo Zack Snyder probabilmente riuscirebbe a rendere figo e interessante anche un film sulla mia vita che sarebbe una noia mortale dopo appena 45 secondi, è come seduta che faccio cose tutta la giornata. Stra-wow! Ebbè, lui è un uomo epico, lui riesce a inserire robe epiche a ogni pieso spinto, anzi, a ogni sequenza e ogni inquadratura. Sentite il mio love, il mio love decisamente sopra le righe. Ecco, tuttavia, in questo film, Zack Snyder, per quanto sia spesso sopra le righe, riesce a darsi una controllata. Cioè, ci sono tutti i suoi elementi, c'è tutta la sua estetica. Insomma, sotto certi punti di vista, diciamo che fa un passo avanti utilizzando luci un po' più naturali che in un film di zombie riescono a dare quel tocco in più, ecco, e anche coi ralenti. Non mette quei ralenti esasperati che io amo di brutto, li utilizza, i ralenti, al servizio del film, al servizio delle scene, al servizio della storia. E non è il film, le scene, la storia, è il servizio dei ralenti, come a volte succede, cosa che comunque io amo tantissimo, perché vedere uno che per percorrere un metro ci mette 15 minuti a ralenti mi piace un sacco. Quello di Army of the Dead è uno Snyder decisamente consapevole dei suoi punti di forza e di quelli che possono diventare i suoi punti deboli. E ci confeziona un prodotto di estremo godimento, perché lui appunto ci voleva intrattenere, ce l'ha detto pure, questo è un popcorn movie, lo dovete guardare mentre mangiate i popcorn. Chiaro, magari in certe scene è meglio di no, perché c'è uno splatter che arriva quasi quasi un pelo vicino al gore, che se in quel momento lì state mangiando i popcorn, probabilmente potreste pentirvi della scelta alimentare, ecco. E mi è piaciuta tanto anche la violenza, una violenza non esagerata, ma una violenza realistica, secondo me, in un contesto di zombie. Racconta la storia, come ben sapete, di questa armata Wattah, che deve entrare all'interno di una sigillatissima Las Vegas, che viene comandata dagli zombie. devono ritrovare 200 milioni di dollari, che poi in realtà, come si scopre andando avanti col film, non è quella la vera missione principale, bensì è recuperare la testa di una degli alfa, degli zombie alfa, per poterla replicare e avere un esercito personale da utilizzare per i propri scopi. un vero e proprio piano da super cattivone, buah, ecco. E quindi, praticamente, li vediamo morire come mosche, i nostri amati protagonisti, perché sono tanti, non mi ricordo, credo, un nome a morire, a parte la pilota Peters, amata proprio fino all'ultimo, ecco, infatti speravo sopravvivesse, cavoli, perché non mi avete salvato almeno lei per un cibacco, e con un Dave Bautista che mi convince, ora, io quando recita, e basta, quando non piglia cazzotti la gente, non riesco a prenderlo mai sul serio, perché mi viene in mente Drax, che mangia le patatine e fa finta di essere invisibile, non ce la posso fare, non riesco a distaccarlo da quel personaggio lì, è un problema mio, abbiate pazienza, però quando esplode in tutta la sua potenza da eroe action, veramente mi fa sballare. Ma come mi fa sballare proprio lo stesso Zack Snyder nella gestione delle scene action, e non solo, io amo l'estetica di Zack Snyder, pensate, quando sogno qualcosa, qualcosa di particolarmente what-ta, ci sono sempre le inquadrature curate alla Zack Snyder, c'è sempre il suo gusto estetico, ci sono sempre i ralenti, praticamente Zack Snyder sono io, magari. Cominciamo dall'inizio, vogliamo parlare di quei titoli di testa, titoli di testa geniali, e super anche utili dal punto di vista narrativo, perché ci raccontano tutto il pre della storia che vediamo narrata, tutto un background dei vari personaggi, infatti quando il film inizia, effettivamente noi è un po' come se li conoscessimo già, ed è una scelta super figa, super efficace, che fa risparmiare un sacco di tempo all'interno del film stesso, senza fare inutili flashback, senza fare robe che allungano il brodo e basta, anche se i film particolarmente lunghi, a Zack Snyder piacciono un sacco, eppure, come vi dicevo, un Zack Snyder consapevole che cerca di tagliare, ecco, cerca di condensare in maniera funzionale all'interno del progetto. E nei titoli di testa c'è pure già il carico emotivo molto consistente, che poi vedremo anche all'interno dello stesso film, perché sì, action, e sì, robe zarre, e sì, Zack Snyder, ma c'è tanta emotività. E mi ha toccato, non tanto per come è stata resa, che c'erano dei momenti tra Dave Bautista e sua figlia, che volevo dire, no, basta, basta con questi dialoghi, a volte, diciamo, un po' di dascalici e a volte un po' troppo lunghi, ecco, però, guardate caso, il rapporto interpersonale principale all'interno del film è proprio quello tra un padre e sua figlia. E sarà che io sono una psicologa, una psichiatra mancata, probabilmente, tuttavia mi fa pensare che è come se avesse voluto portare sulla scena Zack Snyder qualcosa, qualcosa che magari non è mai riuscito a dire a sua figlia, che sfortunatamente è scomparsa qualche anno fa, ecco, proprio in concomitanza con la realizzazione di Justice League. Quindi questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuto come lui continui a utilizzare il cinema, probabilmente in modo terapeutico, ma d'altronde l'arte è terapeutica. Infatti, la parte emotiva è molto importante all'interno di questo film, è veramente il cardine, molto più delle scene Wattah, se ci fate caso, infatti la parte centrale si dedica moltissimo, forse troppo mi viene da dire, a il carico sentimentale dei personaggi, ma non solo dei personaggi vivi, ma anche dei personaggi morti, perché gli zombie che vediamo all'interno di Army of the Dead, e mi è piaciuta anche questa nuova mitologia zombesca che crea Snyder all'interno di Army of the Dead, appunto gli zombie sono intelligenti, alcuni, gli zombie sono organizzati, hanno una struttura gerarchica, e c'è una sorta anche di concetto di amore e di famiglia, anzi, non una sorta, un concetto di amore e di famiglia tra il re e la regina, ovvero i due alfa, perché la regina è incinta, e anche lì, mamma mia, sono partita con un trip allucinante, com'è possibile che degli zombie abbiano creato vita, però non so se avete notato, quando il bambino, il feto, perisce tra le mani del padre, e quando il padre muore, alla fine del film, si rilascia una certa di luce azzurrina, che probabilmente è ciò che ha dato loro vita, lo so che è difficile da concepire, il fatto che ci sia qualcosa che dia vita a degli zombie, tuttavia Zack Snyder sicuramente ci racconterà meglio, tutto ciò nei futuri sequel, nel prequel, e nelle serie animate, anche previste all'interno di quello che diventerà un franchise, sotto l'egida della potente Netflix, ebbene sì, perché questo è solo il primo capitolo di ciò che vedremo, e quanto sono fighi gli zombie, fatti soprattutto con trucco prostetico, cioè col trucco, cioè erano veri, non erano creati con gli effetti speciali, dava tutto un aspetto molto più realistico, a un progetto con gli zombie, figata allucinante, poi vabbè il fatto che gli zombie siano all'interno di Las Vegas, la città che non dorme mai, cioè ci sono tante trovate interessanti, tante trovate intelligenti, e tante trovate fighe, tipo la tigre zombie, cioè veramente, quanti di noi hanno applaudito, e quando il tirapiedi del cattivone dice, è una cazzo di tigre zombie, mi sembra esagerato, io sono scoppiata a ridere, perché è proprio Zack Snyder, che prende in giro il suo essere zarro chic, e c'è molta autoironia all'interno del progetto, come vi dicevo appunto, un Zack Snyder estremamente consapevole, tuttavia non è tutto oro ciò che luccica, o meglio non è tutto zombie ciò che puzza, perché effettivamente c'è una roba che mi ha fatto storcere un po' il naso all'interno di Army of the Dead, e sto parlando del ritmo, ma del ritmo non di tutto il film, del ritmo della parte centrale, Allora, inizia Kawabonga, figata, entrano all'interno di Las Vegas, riescono a entrare all'interno del casino, in cui devono compiere la rapina, ci sono tanti momenti interessanti, tanti momenti fighi, poi c'è la parte centrale, o meglio, forse la seconda parte, della parte centrale, quella prima dello scontro finale, dell'epico scontro finale, che rallenta di brutto, c'è proprio come una frenata, devo essere sincera, la presa del film, almeno su di me, è venuta un po' meno, mi sono un attimo distratta, non ero più presissima dalle vicende dei protagonisti, perché se ci pensate, quel momento lì, è il momento proprio topico, in cui devi costruire la tensione, che poi culmina, nel climax finale, dello scontro Wattano, ecco, proprio in quel momento lì, ci si è concentrati tantissimo su dialoghi, non sempre riuscitissimi al 100%, e a volte anche un po' prevedibili, e mi è dispiaciuto, e mi è veramente dispiaciuto, probabilmente, che cosa avrebbe dovuto fare Zack Snyder, almeno secondo me, tagliare un po', stare attorno alle due ore, non alle due ore e mezza, cioè quella ventina di minuti, che si avesse asciugato, alcune battute, alcuni piccoli scambi, tra i personaggi, non proprio utilissimi, e fondamentali al film in sé, probabilmente il film ne avrebbe giovato, sì, e i personaggi ci sarebbero sembrati caratterizzati, allo stesso modo, in cui ci sono sembrati caratterizzati, roba profonda fratello, ma mi piace, perché effettivamente, e qua dovremmo battere tutti le mani, fragorosamente, per il buon Zack Snyder, lui ci ha provato, a caratterizzare tutti, non solo, tra i personaggi vivi, ma anche tra i personaggi morti, ed è uno sforzo considerevole, soprattutto all'interno di questa tipologia di film, popcorn movie, appunto, che è intrattenimento allo stato puro, questa tipologia di film, ignoranti, ma ignoranti, non come insulto, dico ignorante, che poi in realtà, non lo considero neanche tanto ignorante, questo film, sapete, cioè, non ci sono momenti, alla Godzilla vs Kong, con Kong, con un'ascia in mano, ecco, proprio quei momenti di ignoranza, trash pura, che dici, ah sì, grazie, datemene ancora, in realtà, Army of the Dead, è molto più studiato, è molto più autoironico, ma contemporaneamente, anche serio, in certi passaggi, e la caratterizzazione, non è proprio da manuale, per tutti i personaggi, ma perché effettivamente, sono 850, come potevi caratterizzarli, tutti alla perfezione, tuttavia, che cos'è, che noi spesso, o meglio, io spesso, rimprovera questa tipologia di film, il fatto che i personaggi, o non sono caratterizzati, o sono tutti uguali, o parlano tutti uguali, oppure che sono proprio dati per dispersi, invece qua i personaggi ci sono, sono stereotipati, alcuni, ma d'altronde, spesso si parte da degli stereotipi, da film action, per poi approfondire meglio i personaggi, no? Perché ci danno dei riferimenti di partenza, che già conosciamo, gli stereotipi, non è per forza una cosa negativa partire da uno stereotipo nel presentare un personaggio, e che poi magari è consigliabile che non resti tale per tutta la durata del film, e che abbia un percorso narrativo, il cosiddetto arco di sviluppo del personaggio, e tra l'altro, la cosa che fa Snyder, in maniera sorprendente, riesce a farci affezionare praticamente a tutti i personaggi, vi posso dire tutti i personaggi, tranne per quanto mi riguarda la figlia di Dave Bautista, che secondo me ingiustamente resta viva alla fine del film, altri personaggi se la sarebbero meritato molto più di lei, tipo Dieter, che voi dite, voi Dieter, scusate, l'altra battuta brutta, veramente, oggi sono on fire, che comunque si becca un prequel tutto suo, quindi non stiamo a lamentarci, ecco, quindi sì, c'è uno sforzo particolare, che tuttavia, questo sforzo, va a rallentare un po' il tutto, ad un certo punto del film, quindi sì, grazie per la caratterizzazione, grazie per lo sforzo, grazie per la volontà, ma non è riuscita al 100%, almeno secondo me è questo, però, dalla caratterizzazione, e da tante altre cose, ma proprio partendo da lì, posso dirvi che secondo me, Army of the Dead, è un film, un progetto coraggioso, sia perché preferisce diluire la tensione, quindi rendere meno efficace una porzione di film, per andare a supplire, in un difetto classico dei film action, un po' zarri, e poi anche perché appunto, ci presenta un botto di personaggi, che muoiono tutti, cioè una carneficina, è una carneficina allucinante, e io sono contenta, perché mi piace quando i creativi, gli autori, comunque decidono di far fuori i personaggi, che si sono tanto sbattuti nel creare, vuol dire che c'è fiducia in se stessi, e nella propria opera artistica, ecco invece, non ci si affeziona, quasi morbosamente ai personaggi, perché poi si ha paura, di ammazzarli, e di non riuscire a crearne, altrettanto efficaci, è vero, ultima stagione di Game of Thrones, ecco, ma è ancora più coraggioso, ma follemente coraggioso, o coraggiosamente folle, in previsione del fatto che appunto sarà un franchise, ci saranno dei sequel, e sì, ok, che il personaggio di Van der Rohe, si pronuncia così, manco mi ricordo, perché per me è quello strafigo, esce dalla Las Vegas, nuclearizzata, e prende questo aereo privato, e vede che c'ha il morso dello zombie, e quindi in realtà, lui sarà colui che, andando in città del Messico, se non sbaglio, porterà l'epidemia zombie, al di fuori dei confini di Las Vegas, perché ormai Las Vegas è andata, sono tutti morti gli altri zombie, il che attraverso il suo punto di vista, sarà interessante raccontare, la storia della genesi, di una nuova, non so, civiltà, perché gli zombie all'interno di Army of the Dead, non sono, ti mangio il cervello umano, vieni qui che ti distruggo, no, non sono tanto per la distruzione, e quanto per la costruzione di una civiltà loro, sono più volti a schiavizzare gli esseri umani, comandare gli esseri umani, in quanto razza superiore, piuttosto, non a mangiarli, quindi con un là così interessante, con tutti i progetti, che arriveranno in futuro, parte del franchise, di Army of the Dead, far fuori tutti, Dave Bautista, Peters, che è il cognome della pilota, che io ho amato tantissimo, cioè, che sono personaggi comunque forti, sono personaggi carismatici, che avrebbero potuto avere un ottimo futuro, nel futuro del franchise, è una scelta molto coraggiosa, molto molto coraggiosa. Ora ci divertiamo. E poi sapete, secondo me, almeno che cos'è stato coraggioso, e falle allo stesso tempo? Tutto il momento del loop temporale. Ora, non so se è stata una presa in giro, all'ultima fatica, veramente fatica, di Christopher Nolan, ovvero Tenet, oppure semplicemente è stata una roba, perché si è divertito un sacco, secondo me, Zack Snyder, a creare Army of the Dead, ma proprio, anzi, non secondo me, si vedeva il compiacimento, il divertimento, da parte sua, all'interno di questo progetto. Ecco, magari è stato un gancio, servito a noi nerd, che non appena sentiamo dire, loop temporale, ci sciogliamo, in un brodo di giungiole, e infatti ho detto, ah, quindi potrebbe essere, un loop temporale, e quindi veramente i cadaveri che sono lì, e che hanno le loro stesse collanine, i loro stessi vestiti, erano veramente loro mandati prima, dai cattivone Tanaka, per provare, riprovare, fallire, rifallire, questa impossibile missione, magari è davvero così, magari è davvero tutto come Tenet, vabbè, sicuramente non è così, anzi, l'avrà fatto solo ed esclusivamente, per mandare fuori di testa, le persone come la sottoscritta, ma instillare quel dubbio, Zack Snyder, veramente sei una mente terribile, ci vuoi bene, ma ci vuoi anche un po' male, ecco a noi fan, e mi è piaciuto tantissimo, anche il fatto che ci abbia preso in giro, ci abbia omaggiato, in questo modo, che poi tra l'altro, Zack Snyder e Christopher Nolan, sono super amici, quindi è bello vedere anche queste butad, buffe tra registi, quindi per terminare, Army of the Dead decisamente promosso, non promosso a pieni voti, Trenta e lode, tuttavia con ardore, ecco, per quanto non so, se possa definirsi propriamente, un film epico, anche se effettivamente, la scena a ralenti, grazie al cielo, con tutte le banconote, che cadono dal cielo, e tante altre, sono notevoli, il fatto che, almeno per quanto mi riguarda, Zack Snyder, si sia trattenuto così tanto, me lo fa sembrare, un filo meno epico, di altri progetti, creati, dallo stesso Zack Snyder, in precedenza, quindi, lascia in segno, in parte, non un segno indelebile, nella storia, cinematografica, tuttavia, si configura, come un ottimo progetto, iniziale, per un franchise, che ci scommetto, sarà sicuramente, di successo, perché le carte in regola, ce l'ha, senza dubbio, alcuno, e adesso lasciatemi lanciare, una petizione, che non riguarda, Restore the Snyder's Verse, la DC, Justice League, no, riguarda un altro franchise, scrivetemi nei commenti, qua sotto, per piacere, hashtag, Fast Snyder, se avvertite, l'impellente necessità, come la sottoscritta, di vedere, un film, di Fast and Furious, diretto, da Zack Snyder, potrebbe essere, e lo so che lo sapete, un miracolo, della zarritudine, se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto, al mio background, savonese, e il piccolo, The Rock da viaggio, immancabile, ecco, allora dovete fare sempre le solite cose, vero, mettere mi piace, lasciare un commento, iscrivetevi al canale YouTube di Cosmoparined, attivando anche la campanella delle notifiche, ovunque esse siano, che è sempre una cosa importantissima, altrimenti, ti lovo di brutto, Zack Snyder.